finalmente è arrivata la primavera qua a breccia sono 40 giorni che sta continuamente piovendo ora c'è voglia di estate di spiaggia di tintarella però forse ragazzi la voglia è solo di uscire con un cabrio come questo crossfire rostar 3002 v6 limited questa cabrio sembra uscita da un film di fantascienza futuristica aggressiva a me ha sempre pagato l'occhio come tante di queste americane infatti ha una linea dura e cattiva ma sotto il cofano abbiamo un motore tedesco concepito e costruito negli strumenti della mercedes in germania esageratamente americana fuori solida e affidabile a dentro come nelle migliori tradizioni tedesche questa presentata da noi in particolare oggi è una rarità unica proprietaria sempre tagliandate in concessionario ufficiale vera versione limited con automatico interno in pelle bicolo cosa dire di più basta la sua è stata il cabrio i love you i love you